benvenuti eroi ben ritrovati alla buonanotte da eroe anche se c'è molta luce siamo circondati da molta luce in questo momento voglio dare il benvenuto al primo ospite di questa nuova serie di appuntamenti dedicati all'anima dedicati all'approfondimento di temi molto notturni nei quali i nostri eroi si possono ritrovare e intervistando persone nelle quali anche i nostri eroi possano identificarsi il primo di questa lunga carrellata di ospiti è un amico brasiliano artista si chiama andre barros anche se alla brasiliana in portoghese suonerebbe barros andre benvenuto grazie jasmine grazie per l'invito sono onorato grazie è una meraviglia averti perché io ti conosco da un po di tempo ho avuto modo di vedere le tue opere d'arte di già esplorare la splendida persona che sei umanamente ma per chi ancora non ti conosce e non sa quanto tu sia eroe in viaggio in un paese che alla fine non è il tuo perché da quanto tempo sei in italia sono in italia già da dieci anni sì arrivo dalla terra del brasile e tra l'altro da una zona bellissima del brasile che è il nord est il nord est dello stato del ciara e sono nato fortalesa fortalesa è più familiare si conosce già un po come città città turistica poi alla fine perché ci spiaggia spettacolo è vero che c'è una specie di deserto con le dune bianche di sabbia che sembra borotalco nel nord est le spiagge in brasile ha queste caratteristiche che la sabbia è molto chiara molto fine e quindi è molto morbido camminare spiaggia in nord est del brasile prima o poi andrea anche se le spiagge in italia anche qua sono molto bene sono già andato a puglia sono degli scogli è una tipologia di spiaggia diversa ma comunque la bellezza c'è anche in italia chi è andrea baros per chi lo incontra per la prima volta se tu dovessi fare un identikit di te in poche parole riassumendo in una frase chi sei che cosa diresti andrea una definizione di me di chi sono sì ho sempre pensato erano pensieri che facevo molto spesso questo e sì ho una definizione su me ho sempre detto che sono un ricercatore spirituale più che pittore perché pittori ormai si sono anche pittore alla fine siamo tante cose no però per decidere una si sono un ricercatore spirituale perché no perché alla fine stiamo sempre a cercare qualcosa e mi piace più che altro cercare delle cose che è più profonde in noi stessi quindi ricercare lo spirito la realtà come noi stessi un ricercatore spirituale è una definizione che mi piace tantissimo e che condivido al cento per cento perché anch'io mi considero una ricercatrice in questo senso e quando si parla di spiritualità si parla di qualcosa che va al di là della teologia o delle religioni o delle barriere diciamo dogmatiche che possono magari dividere le persone semplicemente perché hanno opinioni differenti su uno stesso argomento che poi ci riguarda tutti perché ogni essere umano si fa delle domande sì secondo me ogni essere umano è un po' filosofo fa questo tipo di domande almeno una volta nella vita almeno una volta nella vita sì e chi dipinge secondo me è una specie di filosofo che sta sempre lì a ricercare è molto curioso perché io so perché io come personalità sono così ma anche persone che dipingono che ho conosciuto pittori anche alcuni famosi hanno questa caratteristica che loro indagano 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 non indagano aspetti della società anche aspetti diciamo banale ma indagano in profondità su che cos'è l'uomo sulle spiritualità di io tutte queste cose più diciamo grande ti faccio una domanda andrea il ricercatore per definizione una persona che ricerca e se ricercatore oggi lo è domani lo è a prescindere dalle risposte che trova sul suo cammino anzi le risposte sono quasi delle definizioni che ci si dà a un certo punto e che rappresentano delle immagini delle fotografie ma si va oltre e quindi potrebbe essere che continuando nella direzione che ci siamo dati della ricerca verso la luce verso il divino verso lo spirito per l'appunto qualche altro segnale stradale arrivi a indicarci se siamo sulla strada giusta allora la mia domanda è qual è la prima domanda da ricercatore spirituale che andre si è posto nella vita e è tuttora valida la risposta che ti sei dato e se sì qual è la risposta qual è la domanda che ti sei fatto qual è la risposta che ti sei dato e se da lì ti sei lasciato alle spalle quella risposta per andare oltre aprirti ad altre possibilità la domanda persistente il perché noi perché perché non possiamo capire tutto perché non siamo così evoluti da capire tutto non siamo dei scienziati o allo stesso tempo non siamo dei musicisti e perché anche perché queste persone si prendono in specializzazione determinate cose invece i perché intendo perché filosofici della vita quindi perché che poi col passare degli anni troviamo le risposte ci accontentiamo e a volta possiamo anche trovare un'altra risposta ma quello che conta è sempre questo continuare perché delle cose perché poi è piacevole scoprire le risposte perché tanto alla fine troveremo sempre un altro perché quindi la vita è piena di perché è come i bambini bambini che chiedono sempre perché diciamo che i veri ricercatori spirituali non sono mai usciti da quella fase continuano a chiedere non più ai genitori ovviamente i perché della vita ma devono fare ricerche libri nei grandi saggi che sono esistiti nella storia ma perché secondo me è un modo prima di tutto per non annoiarsi mai perché annoiarsi nella vita sinceramente chi capita di annoiarsi secondo me ma per pochissimo tempo ma non c'è per niente da annoiarsi nella vita perché continuo perché delle cose continuo a scoprire delle cose ed è formidabile questo trovare risposte puoi cercare un'altra e secondo me questo stile di vita di chiedersi perché sempre è anche un modo di darti ispirazione di creare cose nel mio nel mio caso creare quadri ma anche per un musicista creare musica o per un architetto a creare delle case delle strutture che ne so poi ci sono tanti altri esempi qual è il tuo primo perché andre il primo perché a cui hai dato risposta ecco immagina che io sia un extraterrestre e io ti chieda andre perché sei qui perché qui andre bahos sul pianeta terra è la prima domanda per esempio che io mi sono posta da adolescente e non riuscendo a trovare una risposta e non capendo che la domanda era oggettivamente non facile e non facilmente diciamo così risolvibile questa cosa negli anni mi ha accompagnato dandomi proprio un senso di urgenza cioè e questa è la cosa positiva molto bella perché è quella che ha determinato il mio atteggiamento di ricercatrice spirituale qual è la benzina qual è il carburante che ti fa andare avanti nella tua ricerca e chiederti appunto perché sono qui allora perché è qui andre bahos mettiamola un po' come se fosse anzi utilizzando lo schema al paradigma del viaggio dell'eroe la tua missione da compiere qual è secondo te bella domanda la mia missione da compiere mi avevo chiesto nel passato ed è sempre stata quella di portare bellezza portare bellezza nel senso di creare cose belle non tanto esteticamente dico con la pittura no? ma anche una bellezza nel messaggio wow e quindi da questo perché grande perché ero qua qua che poi mi sono dato questa coppa risposta c'erano anche tanti altri perché che poi al mano arrivavano quindi indagare sulle spiritualità e su tutto ciò che era invisibile facendolo invisibile nei quadri quindi c'era un periodo nella mia adolescenza che volevo rappresentare lo spirito tramite colori e quindi volevo rappresentare concreto che cos'era lo spirito e quindi con tutto l'intervento che cos'è lo spirito Andre secondo te? appunto lo spirito è un qualcosa di invisibile sappiamo che c'è è invisibile ma è così speciale appunto perché non possiamo vederlo e quindi è bello rappresentarlo almeno con i colori o con le forme qual è il colore che secondo te meglio rappresenta di altri? lo spirito secondo me è l'azzurro sai che stavo pensando a questo l'azzurro ma non solo ma anche il rosso molto forte secondo me lo spirito è un insieme di tante cose quindi per rappresentarlo c'è chi mette tutta la vita per rappresentarlo facendo delle ricerche, degli esperimenti artistici ma anche la rappresentazione dell'espirito nella musica che è una mia passione è stato anche molto indagato e descritto in forma poetica che ci sono tantissime musiche e canzoni che sono entrate nella storia appunto perché hanno saputo rappresentare il spirito dell'uomo e anche lo spirito del pianeta, dell'universo secondo me lo spirito è qua dentro di noi e anche fuori di noi c'è ed è bello vederlo rappresentato da una bella opera da parte o da una bella poesia anche un bel film perché no perché ci sono anche tanti bei film infatti che parlano di spiritualità senti Andre spulciando qui e lì vedendo le tue opere e leggendo di te sono rimasta così particolarmente colpita dal fatto che tu sia riuscito nella tua arte per lo meno nelle intenzioni poi mi dirai se hai raggiunto quello che volevi raggiungere effettivamente o se ancora c'è della ricerca da fare in questo senso ma un tentativo importante c'è stato da parte tua ed è quello di mettere insieme di conciliare il pensiero filosofico quindi il pensiero dell'uomo, le domande che si pone, l'essere umano, la spiritualità, l'arte, la bellezza qual è secondo te l'opera oggi che faremo vedere ai nostri viewer e quindi mi dirai la foto esatto che secondo te ha centrato di più l'obiettivo di mettere insieme di conciliare appunto armonicamente questi aspetti così in apparenza distanti in realtà fanno parte della stessa presenza trascendentale cioè l'arte intesa come un modo per comunicare all'essere umano a prescindere dalle sue idee per esempio su qualsiasi cosa, su qualsiasi argomento la spiritualità, lo spirito che accomuna gli esseri umani anche se poi gli danno nomi differenti ecco tu metti insieme tutto questo da Socrate a Platone a Eraclito a Giordano Bruno quindi il pensiero filosofico assieme all'arte, alla bellezza e la spiritualità con versetti biblici in ebraico qual è l'opera che rappresenta al meglio questo tuo desiderio di mettere insieme tutto questo? allora ho fatto tante Jasmine, ho fatto tante e c'è una in particolare allora, ritornando a quello che vi avevo detto prima che ho iniziato diciamo un percorso stilistico e anche un percorso di indagine intellettuale e poi trasferendo una creatività pittorica con i colori quindi ho cercato di rappresentare uno spirito con quadri colorati con una specie di figuratismo insieme all'astrato e l'astrato appunto è ricolorato che vedeva questi personaggi umani c'era anche una cantante in particolare ma poi ho maturato facendo una serie di indagini, di studi, di ricerche e apro parentesi il pittore non è che dobbiamo vederlo come nello stereotipo il pazzo che all'improvviso si veste male e che poi gli vieni in mente di fare un quadro e fai così di un momento all'altro per lui invece no secondo me un pittore così come sta Fontana così come sono stati tanti altri sono persone molto riflessive e che studiano, 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 leggono di cose importanti perché sono un nutrimento per i pittori queste cose e quindi dal colorato ho cambiato totalmente stile tra i 2013, 2014 è rimasto ancora uguale sono uscito dal colorato e sto usando molto colori pastelli perché possiamo dire che si sono illuminate le tue opere in qualche modo mi sono ispirato molto nel colore della pelle che non è mai... la pelle non è colorata se andiamo a vedere più da vicino c'è questo misto di marrone tra il beige e il rosso quindi mi sono ispirato vabbè, per la parte esteriore del quadro ma posso dire che ho maturato molto l'idea di spiritualità cristiani e ho voluto ho voluto creare quadri che non rappresentasse la spiritualità non è che ho creato un quadro solo che in quello quadro soltanto rappresenta tutta la spiritualità perché sono convinto che la spiritualità invece è tantissime altre cose ma più che altre è l'ispirazione la spiritualità è l'ispirazione che arriva da una qualche parte fuori di noi perché il spirito appunto viene dalla parola vento e il vento è un qualcosa che arriva cambia il tuo stato di spirito quindi è un qualcosa che viene da un'altra parte non dall'angolo della nostra via da due metri ma viene proprio da un'altra parte molto lontana viene dal mondo metafisico ecco, l'espiritualità l'espiritualità è un qualcosa, un vento appunto viene da spirito è un vento che ti porta ispirazione quindi l'espirazione arrivata dall'espiritualità mi ha fatto creare tantissimi quadri che parlano della coscienza innanzitutto e parlano di tante cose che sono invisibili ma che ci sono per esempio coscienza che non possiamo toccare ma c'è un postino maschile e femminile che non sono tanto atteggiamenti, comportamenti ma più che altro secondo me il maschile e femminile nell'uomo è un qualcosa di molto spirituale molto più profondo di quello che possiamo immaginare quindi anche tutto ciò che è dualità tutto ciò che è l'armonia tra il maschile e femminile quindi ho creato una serie di quadri che rappresentano queste cose che secondo me sono quadri abbastanza spirituali so che consideri l'arte non solo un veicolo per propagare il tuo messaggio ma anche un mezzo per indicare, mostrare, manifestare visibilmente la verità che cos'è per te la verità Andre? che belle domande che fai sono domande che fai ti sto ascoltando sai così e allora sono interessata a sapere di più bisogna avere una grande responsabilità per rispondere a queste domande perché la verità sono tante no? la verità per me è tutto ciò che è autentico quindi autentico rispetto a te? autentico rispetto a me? sì sì e se sono felice ed è una felicità che arriva per il fatto che sono grato della vita allora per me quella è una verità che è indubbiamente una cosa vera invece la verità per me in modo generale è tutto ciò che fa l'uomo felice secondo me la felicità anzi la beatitude perché ormai la parola felicità è così usata che pensiamo che nei giorni d'oggi felicità è comprare una cosa e avere una cosa nuova acquistata no? sono felice perché mi è arrivato il pacco che ho comprato su Amazon invece quella è una felicità una società molto passaggera invece la beatitudine per me è questa la verità assoluta è quando l'uomo si sentirà veramente con se stesso con la società delle relazioni personale o interpersonale secondo me è questo io ti ringrazio perché la tua risposta è profonda almeno quanto lo è stata la mia domanda e sono sicura che ciascun eroe che ha avuto modo di seguire questo nostro percorso un po' tra il filosofico, lo spirituale, l'artistico abbia trovato come pollecino disseminati dei semi, dei sassolini luminosi sul sentiero per indicare davvero la strada che conduce all'appagamento, alla realizzazione a 360 gradi di chi siamo perché non c'è beatitudine se non c'è piena consapevolezza di chi siamo di quale sia lo scopo per cui siamo qui e non ci sia anche un'azione volta a rendere manifesto ciò che non lo è Antoine de Saint-Exupéry il famoso autore del Piccolo Principe ha fatto dire a uno dei suoi personaggi l'essenziale è invisibile agli occhi ed è così parlando dello spirito che è invisibile agli occhi è necessario prendere coscienza che siamo più dei nostri pensieri dei nostri desideri, delle nostre opinioni, delle nostre idee di quello che crediamo sia la nostra identità perché alla fine l'identità è frutto di una serie di programmi in qualche modo che abbiamo inserito in questa macchina biologica miracolosa, bellissima, stupenda che è il nostro corpo e tutto il resto che cos'è? forse è la cosa più importante Andre, quindi io ti ringrazio ti do un bacio della buonanotte sulla fronte sei stato il mio primo ospite sono orgogliosa di aver inaugurato grazie per l'opportunità la tua amante è così tranquilla abbiamo bisogno di serenità di poesia che è quella che recita te di sentire e di vedere cose belle che ci rendono che ci fanno portare in un stato di beatitudine quello sì mi piace anche tanto il termine beatitudine comparato al felicità ormai abusato perché si è felici per qualunque cosa la beatitudine è la felicità talmente esagerata talmente piena talmente completa che fa dire a chi è intorno a te e ti vede ma chi sei ma da dove viene questa luce? da dove viene questa pace? da dove viene tutta questa energia che emani? e ovviamente è contagiosa e questo stiamo cercando di fare anche in questi appuntamenti contagiare le persone alla beatitudine perlomeno ad avere un atteggiamento che porta alla beatitudine l'atteggiamento così nei riguardi della vita di entusiasmo di accettazione di così accettazione totale e completa di tutto quello che anche è diverso da noi tanto per concludere tanto per concludere non so poi qual è il tempo che abbiamo Giardina visto che abbiamo parlato d'arte ha fatto questa testa d'arte con me che dipingo mi sento mi sento di dire una cosa importante di di parlare agli altri per chi ti seguono di avere un senso critico rispetto alla verità e quello che è l'arte no e quello che è l'arte vera diciamo fatta di autenticità fatta di ricerca sull'istituto perché purtroppo oggi è una cosa che mi accorgo io e mi accorgono tantissime persone che amano l'arte le storie dell'arte l'arte contemporanea e che c'è un inquinamento molto forte dell'arte oggi purtroppo con l'influenza dei soldi e oggigiorno si parla più che altro le persone si impressionano più che altro con il valore economico del quadro che con il quadro stesso certo tornare un po' ad avere un atteggiamento dell'arte come rappresentare qualcosa di più bello è molto più stimolante di parlare del mercato dell'arte sapere avere un senso critico sapere cos'è dov'è la bellezza in quel quadro se è un quadro autentico o no e questa è una cosa bellissima è una cosa bellissima hai detto una cosa molto importante perché chi si pone criticamente di fronte a un'opera d'arte sostanzialmente si sta aprendo alla possibilità di ricevere il messaggio dall'opera stessa che vada ovviamente al di là di quello che è il valore commerciale dell'opera osservata e poi purtroppo oggi l'arte contemporanea è un'arte che purtroppo sento molta gente dire che non riesce dell'arte contemporanea effettivamente è un'arte un po' complessa dell'arte classica dell'arte del passato ma comunque c'è molta verità nell'arte contemporanea oggi è fatta più indagini è fatta più sperimentazione sono poche però ci sono e va rispettata come qualsiasi tipo d'arte contemporanea è l'arte di oggi dobbiamo ammirare così com'è però purtroppo c'è tanto inquinamento e oggi più che mai per chi è appassionato d'arte o almeno per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'arte bisogna avere molto senso critico indagare e studiare tutti i quadri queste proposte che ti fa vedere la biennale tutte le biennale del mondo perché purtroppo la speculazione e i soldi sono arrivato anche in questo mondo qua quindi bisogna avere questo critico forte ti abbraccio forte Andre grazie per essere stato con me grazie con tutti noi e ti faccio sempre una bella opportunità a parlare di noi di quello che facciamo è vero è vero soprattutto condividendo bellezza valori e appunto quello che è essenziale che non non è visibile agli occhi ma è molto molto importante ti abbraccio e il mio abbraccio include quello di tutti gli eroi che in questo momento stanno guardando il tuo bel viso e hanno ascoltato la tua voce raccontarci la tua esperienza di vita e ti ringrazio molto grazie buonanotte Andre è stato bello ciao Andre a presto ciao caro ciao 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 ciao